Incidente nel pomeriggio di lunedì 27 febbraio poco prima delle 14 sulla strada provinciale 13 di Rabusano. Coinvolte due vetture, una pelastra e un Audi Q3. La Opel ha terminato la soccorsa contro la Dumpalo. Sul posto sono intervenuti la croce rossa di Castellamonte alla Croce Bianca del Caravese. Il bilancio è di due feriti non gravi, uno trasportato all'ospedale di Ciriè e l'altro ad Ivrea. Il sinistro è a valle dei Carabinieri di Rivara giunti sul posto per i rilievi. Presenta anche il sindaco Gian Battistino Chiono. Il traffico è rallentato. A supporto sono intervenuti la protezione civile di Busano per la gestione del traffico e il personale della città metropolitana. Grazie.